Pasquale Tocci sarà candidato al Consiglio Comunale di Taranto nella nostra lista Taranto senza Ilva. Vogliamo conoscerlo e presentarlo all'elettorato. 42 anni di servizio effettivo nella Marina Militare la volontà ora di servire la nostra città Taranto. Lui è un tarantino doc. In una città purtroppo baresizzata abbiamo, grazie a Dio, dei tarantini veri e veraci. Grazie prima di tutto a Luigi Abbate che mi candida in questa favolosa città. Noi stiamo perdendo tutto in questa città. Tutto. Prima di tutto ammazzare questo mostro. Io combatterò insieme a Luigi per chiudere. Chiudere significa amare Taranto. Chiudere l'Ilva significa amare Taranto. Dare spazio a tutti quanti a far ricrescere questa città soprattutto con il turismo. quello che ci manca onestamente. A noi manca il turismo. A noi manca il turismo. Noi tarantini praticamente il turismo lo andiamo a vivere al di fuori di Taranto. Tipo crociere, viaggi, tutto. Quando noi a Taranto abbiamo tutto. Abbiamo una città tarantovecchia che si è messa apposta. Sarebbe il gioiello dell'Italia. Il gioiello dell'Italia. I turisti dove dovrebbero andare? Ecco tu hai una lunga esperienza. 42 anni in servizio in marina. Ora luogotenente in pensione. Hai girato il mondo. E quindi hai visto che questa città non è seconda a nessuno. No no. Effettivamente io ho girato onestamente. Mi sono fatto tutto il Mediterraneo. quando dicevano che il quarto mondo era la Turchia, l'Africa. Possibile. Io ci sono stato in questi posti. Il quarto mondo siamo noi qua. Il quarto mondo siamo noi qua. Non sappiamo sfruttare il nostro mare o la nostra bellezza di Tarantovecchia. La rinchiera. La rinchiera è un posto favoloso. Io sono stato sulla costiera mafritana. Ho mio figlio che vive da 26 anni. Con una stradina fanno tanto di quel turismo che non immaginiamo. Loro vivono con il turismo. Perché noi no? Taranto deve vivere con il turismo. Abbattiamo prima di tutto quest'ilva che ci porta solo danni. È una battaglia che facciamo insieme e mi ha molto colpito la tua espressione. Hai detto voglio farlo per i miei figli e per i miei nipoti. Giustamente. Io ho nipoti e figli e vedo effettivamente. Dovete girare, dovete girare. Forse non mi credete. I morti, i morti, i bambini. Cosa che nelle altre città non si vedono queste cose. Non si vedono. Girare. Per carità io lotterò con tutte le mie forze con Luigi Abbasi. Perché è l'unica persona degna, degna, Tarantino verace che potrà portare l'ustro a questa città. Ricordatevelo questo. Se non chiudiamo quel mostro non andremo da nessuna parte. Non andremo noi, Tarantini, da nessuna parte. Ricordatevi. Votate il Tarantino. Certo perché... Votate il Tarantino. Abbiamo una città ormai commissariata da Bari. Il centro-destra, i vertici del centro-destra sono dei comuni della provincia. Taranto città sembra completamente assente. Emiliano oramai è il sindaco di Taranto a tutti gli effetti. Beh io penso che Taranto ha i Tarantini perché è giusto che chi ama questa terra, chi vive questa terra debba anche amministrarla. E io dico che ognuno di noi ha una storia e al cospetto di questa storia si presenta dinanzi all'elettorato. Nelle mie liste ci saranno e ci sono persone per bene, persone che hanno dato il loro umile contributo al territorio, allo stato italiano e Pasquale Tocci mi onoro di averlo in lista. L'ho conosciuto, lo conosco da anni. Lui è stato vicepresidente del circolo sotto ufficiali della Marina di Taranto e ho apprezzato il suo impegno, la sua capacità gestionale, la sua capacità di amministrare, la sua capacità di interfacciarsi con gli altri. E proprio sulla scorta di questo esempio, di questo vissuto noi siamo pronti ad amministrare questa città con umiltà, con spirito di sacrificio facendo anche i nostri errori perché nessuno è perfetto e nessuno è esente da errori ma ci metteremo l'entusiasmo, il cuore, la nostra onestà. Sì, questa, la nostra onestà perché nella mia lista non ci saranno soggetti con vicende giudiziarie torbide come ci sono invece in altre liste. Allora Tarantini, votate Luigi Abbate perché è l'unico Tarantino verace tra i candidati, da quello che sto sentendo e vedendo, è l'unico Tarantino verace che aiuterà questa città, ricordatevelo. Io ti ringrazio di cuore per le belle parole, è un impegno che stiamo portando avanti tutti insieme, non sarò mai un uomo solo al comando ma avrò da imparare da persone come l'amico Pasquale Tocci che ha una storia da raccontare, una storia di servizio nei confronti della comunità. Grazie.